Erano stati notati in pieno centro cittadino girovagare senza una fissa meta, ognuno a bordo del proprio ciclomotore. Un atteggiamento strano, quello di tre marocchini di 45, 41 e 32 anni, tutti in Italia senza fissa dimora e senza occupazione, che ha insospettito i carabinieri della compagna di Andrea, che li hanno per questo pedinati. Il fiuto dei militari non ha sbagliato e nella tarda serata di ieri, al termine di un articolato servizio di osservazione, sono riusciti a localizzare un casolare di campagna in contrada a Chiangarulo, dove gli extracomunitari, dopo aver parcheggiato i motorini, entravano per rifocillarsi. Circondata l'area, col supporto di altre gazzelle, i carabinieri hanno proceduto al controllo dei tre extracomunitari. Mentre due sono stati bloccati nell'immediatezza, il terzo ha tentato la fuga a bordo del mezzo, ma è stato subito fermato. Dalla verifica dei ciclomotori è risultato che due avevano il numero di telaio tagliato, mentre in uno era braso, allo scopo evidente di impedire la riconducibilità dei mezzi ad azioni predatorie precedenti. I tre sono stati quindi accompagnati alla caserma di Viale Gramsci per l'identificazione mediante foto o segnalamento e dopo le formalità di rito sono stati associati presso la casa circondariale di Trani a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sul conto dei veicoli che sono stati sequestrati sono in corso accertamenti per risalire ai proprietari e quindi alla restituzione agli eventi di rito. Grazie a tutti.